Grazie a tutti. E' stato un percorso molto lungo in cui gradualmente la presenza di tanti testimoni di fede che tramite le loro opere buone mi hanno convinto della bontà di questa religione e hanno sedimentato dentro di me uno strato sempre più spesso e sempre più solido di spiritualità cristiana in un primo momento inconsapevolmente. E' soltanto nella fase finale che io ho cominciato ad acquisire consapevolezza di questa realtà. E se c'è stato un momento in cui più di altri ho maturato questo percorso è stato l'incontro con il pensiero e con la testimonianza del Papa Benedetto XVI che nella sua affermazione dell'indissolubilità tra fede e ragione mi ha pienamente convinto sin da quando ero musulmano, laico e liberale della validità di un messaggio che rivolgendosi con il linguaggio umano, laico e razionale per evidenziare ed affermare dei valori che in ambito laico sono assoluti e universali mi riferisco al diritto alla vita, al diritto alla libertà religiosa riesce a far comprendere come tutto ciò che è autenticamente umano acquisisce anche una autentica rilevanza sul piano religioso. L'ultima domanda invece riguarda, secondo lei, qual è l'atteggiamento che l'Occidente deve mantenere nei confronti del mondo islamico che fa fatica a riconoscere in tutte le sue forme la libertà religiosa delle singole persone? Qual è l'atteggiamento? Il dialogo si fa con le persone, non sono le religioni che dialogano tra di loro ma sono le persone che dialogano tra di loro quindi il dialogo va fatto con tutte quelle persone che in partenza riconoscono i diritti fondamentali della persona e i valori inviolabili e al tempo stesso questo dialogo deve essere condotto nell'affermazione della verità a cui si crede quindi affermando pienamente e convintamente la religione cristiana senza relativizzarne la portata e i contenuti affrancandosi da quel politicamente corretto che ci porta a non assumere atteggiamenti che possano urtare la suscettibilità altrui e giocando a carte scoperte si deve tendere certamente la mano, si deve dialogare, si deve costruire con tutti ma partendo dalla consapevolezza e dalla solidità della propria fede e dalla certezza che il dialogo sia strumento di costruzione e non di distruzione Grazie mille